Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto, questa volta nella veste di official trainer di Panquiz per l'Italia. Stavo per dirvi back to school, però in realtà, almeno per quanto mi riguarda, non ci siamo mai realmente separati. Anche in questo periodo estivo ho prodotto alcuni dei miei consueti videocorsi, ma ora risvegliamo o accendiamo ancora di più l'interesse verso la app di riferimento per la didattica digitale in Italia. Perché back to school qui? Beh, perché Panquiz è la soluzione ottimale sia che si debba creare un live quiz con l'interazione, ad esempio tramite dispositivi individuali, nelle prime fasi e nei primi giorni del nuovo anno scolastico, ma è anche una ottima soluzione, chi di voi mi segue lo sa, per creare un questionario magari fatto creare a Mr. Panquiz, che no, non è solo il buon Paolo Mugnaini l'ideatore, ma è la funzione di intelligenza artificiale che si trova proprio dentro Panquiz. Il questionario in che cosa differisce? Ricordiamolo un po'. Vedete a sinistra, nella nostra dashboard appena effettuato l'accesso, che troviamo proprio due voci separate. Il questionario ha più la fisionomia di una verifica. Inoltre può essere svolto in asincrono. Cercate sul mio canale la playlist, la rubrica con la videoformazione ufficiale di Panquiz, oppure direttamente qui dal sito app.panquiz.com. In alto a destra cliccate sul cosiddetto tocco accademico sul pulsante e se andate a cliccare sul mio nome, vedete che sono accanto a Paolo Mugnaini, che ho nominato prima e ad altri colleghi con cui insomma stiamo mettendo in cantiere alcune novità, ecco qua i miei videocorsi ufficiali appunto come Trainer Panquiz in Italia. Vi accompagno ad utilizzarlo. Abbiamo anche le apps ufficiali, ricordo, da Play Store o da App Store e brevemente, proprio in stile back to school, per preparare già qualche cosa per l'inizio dell'anno nelle varie regioni. Guardate com'è semplice, piccolo così ripasso. Clicco in alto a sinistra su crea nuovo, vado su un questionario e poi possiamo comporre noi domande e specificare le risposte o cliccare sul più in basso a destra. Andiamo a cliccare chiedi a Mr. Panquiz. L'intelligenza artificiale è un tema sempre e sicuramente di interesse ed ecco perché lo dobbiamo studiare e implementare come ha fatto il buon Paolo. Voilà. Caro Mr. Panquiz, per l'inizio dell'anno scolastico mi scrivi quattro domande facili, ognuna con tre risposte, con la spiegazione della risposta esatta in lingua italiana, ma abbiamo anche altre lingue, riguardanti il seguente argomento, il seguente brano, il seguente documento, il seguente argomento che potrebbe essere per noi, vediamo un pochettino, verbi ausiliari. Allora eccolo qua, verba ausiliare, vedete, clicco su vai, ovviamente la risorsa è estremamente liquida, Panquiz, personalmente l'ho utilizzata nei corsi di formazione ai colleghi e alle colleghe sin dalla scuola dell'infanzia dove vivono, ecco fortemente, le immagini magari rispetto ai testi. Però, ripeto, scuola primaria, secondaria di primo, di secondo grado, persino università, persino associazionismo e contesto aziendale per mappare dei bisogni, per analizzare delle necessità anche in forma anonima. Guardate, mentre io me la chiacchieravo, ecco la possibilità per noi ovviamente, di sempre controllare, guardate, hop là, ecco le domande che noi abbiamo. Qual è il verbo ausiliare nella forma interrogativa del futuro semplice? Qual è il verbo ausiliare essere, avere, fare? Possiamo ulteriormente correggere, rettificare, cliccare e usa domande se le vogliamo, oppure semplicemente crearne ex novo delle altre o farle creare a mister Panquiz. Non appena andremo a cliccare su includi e su usa domande, ops, vedete? Cosa mi sta dicendo? Che le domande io le debbo selezionare anche solo con un clic su seleziona tutte? Perché potrei da mister Panquiz estrapolarne tre rispetto alle dodici da me create. Clicco su usa quattro domande e avremo il questionario come se fosse composto da noi sul quale possiamo ulteriormente intervenire semplicemente cliccando su modifica. Ecco qui, back to school, rimanete sintonizzati, sintonizzate caldi e calde, non atmosfericamente, perché avremo ancora belle novità e io sarò lieto come sempre di presentarvele. Buon rientro a scuola per tutti i colleghi e le colleghe ed anche poi non appena sarà tempo per i nostri ragazzi e ragazze. Andrea Cartotto vi saluta, ciao!